L'emergenza sanitaria in corso nel nostro paese e nel mondo ha fatto sorgere diverse e più complesse esigenze di sicurezza e controllo rispetto all'accesso in luoghi aperti al pubblico e di lavoro. Con i nuovi sistemi CAME oggi è possibile consentire l'ingresso automaticamente solo a chi ha una temperatura inferiore a 37 gradi e mezzo e indossa la mascherina. È possibile anche personalizzare i sistemi, integrandoli ad esempio con una funzione di contapersone per controllare i flussi in entrata ed uscita negli ambienti. Questo sistema integrato può essere installato in qualsiasi luogo di lavoro, sia privato come aziende uffici o aperto al pubblico, ad esempio in musei, teatri, negozi, ospedali, scuole, in modo da assicurare protezione sia alle persone in entrata che ai lavoratori. A garantire la sicurezza del sistema che non ha alcun rischio per la salute, un'esperienza nel settore dell'automazione e della sicurezza sviluppata dalla Veneta CAME in oltre 45 anni di lavoro. Forte dei suoi 1700 dipendenti, 7 stabilimenti produttivi e filiali in 21 paesi.